Musica Un itinerario turistico sostenibile dell'area transfrontaliera che segue le antiche vie, i corsi dei fiumi, i parchi e che attraversa anche le città d'arte, ma anche una rete ciclabile che scenda lungo la costa, partendo dalla regione francese Provenza-Costa Azzurra, passando per la Liguria fino a Lazio, attraversando la Toscana, sul tracciato della ciclopista tirrenica. Questo è il progetto strategico intensi itinerari turistici sostenibili che vede capofila la regione toscana, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliere Italia-Francia-Marittimo 2014-2020, che è stato al centro di un meeting di due giorni organizzato nel parco di San Rossore a Pisa, dal titolo Mobilità e Turismo Sostenibile, un'opportunità per la cooperazione transfrontaliera. Il progetto strategico è l'obiettivo di creare una ciclovia che sostanzialmente colleghi tutte le cinque regioni del programma Italia-Francia-Marittimo e che soprattutto valorizzi anche i terrenari turistici green raggiungibili con la bicicletta. Da questo punto di vista la regione toscana ha lavorato per creare una ciclovia della costa che può davvero intrecciarsi e inserirsi con il progetto più complessivo che riguarda sia la Provenza, sia la Liguria, la Toscana, la Sardegna e la Corsica, che sono le cinque regioni coinvolte. Lo sviluppo di un turismo sostenibile e consapevole attraverso l'implementazione e la messa in rete di itinerari culturali, naturalistici ed escursionistici fruibili con la mobilità dolce e ciclabile nei territori dell'area transfrontaliera può rappresentare un'occasione importante di sviluppo economico-turistico e al tempo stesso un'azione concreta di lotta contro i mutamenti climatici. Noi da tempo lavoriamo col programma Italia-Francia-Marittimo che nell'ultima programmazione si è allargato alla Provenza per fare del Mediterraneo e di questa zona trasfrontaliera una leva di sviluppo per le nostre regioni ritenendo che ci sono in queste cinque regioni opportunità importanti di collaborazione e di crescita comune. Sicuramente due dei temi fondamentali di questa collaborazione sono i collegamenti, quindi la mobilità sia navale, stiamo lavorando anche dal punto di vista dei collegamenti aerei sia i collegamenti ovviamente di tipo di mobilità accessibile, verde come quelle su bicicletta. Quindi questo è uno e l'altro ovviamente la valorizzazione dell'offerta turistica. Da questo punto di vista c'è oggi un turismo che cresce sempre di più che è il turismo verde che ha appunto nell'utilizzo della bicicletta una delle possibilità di realizzarsi. Quindi questo progetto mette insieme questi due obiettivi del programma. Da un lato, come dicevo, una mobilità accessibile e dall'altro una valorizzazione dell'offerta turistica che attraverso le ciclovie può raggiungere anche itinerari meno tradizionali rispetto al solito che invece sono quelli che noi vogliamo valorizzare. Il progetto europeo Intense è prospettiva di crescita socio-economica per l'area trasfrontaliera grazie ai itinerari sostenibili e alla promozione del turismo ciclabile oltre confine. A tirare le fila dell'iniziativa organizzata nel Parco di San Rossore in collaborazione con FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, è stato l'assessore alle infrastrutture della regione toscana Vincenzo Ceccarelli che ha ricordato come la ciclopista tirrenica è stata inserita nel progetto Intense che ha trasformato l'itinerario ciclabile di interesse regionale e nazionale in uno europeo. Un tracciato intanto straordinario che abbiamo pensato prima di realizzarlo in Toscana, abbiamo stipulato il protocollo con la Liguria e con il Lazio, e questo ci consente di avere un tracciato che partirà da 20 miglia per arrivare a Roma, oltre 1200 chilometri, ma la cosa importante è che su richiesta delle tre regioni è diventato un tracciato di interesse nazionale. La tirrenica è l'anello di congiunzione tra la Liguria, la Toscana e il Lazio, ma essendo parte del progetto europeo Intense oltrepassa i confini nazionali, coinvolgendo la regione francese, Provenza e Costa Azzurra, la Corsica e la Sardegna. I progetti trasfrontalieri sono molto più importanti in un'epoca come questa, dove si parla anche di Brexit, quindi di nascita di movimenti nazionalisti. In questo momento è nostro dovere invece avere una collaborazione trasfrontaliera tra tutti i vari Stati, quindi importanti sono i progetti trasfrontalieri come Intense, che ci permette di arricchirci l'un l'altro con questi progetti, creando un percorso che non riguardi uno Stato solo, ma che li riguardi tutti. Si crea solamente non un valore dal punto di vista turistico e culturale, ma anche un arricchimento per tutti e una messa in valore, una valorizzazione di tutto quello che noi possiamo offrire. Le regioni dell'area partner del progetto Intense stanno sviluppando politiche integrate di mobilità sostenibile per le attività turistiche, allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta, destagionalizzarla, allungando i periodi di presenza e mitigare l'impatto della concentrazione di turisti che ogni anno frequentano le coste e le isole dell'Alto Tirreno e del Mar Ligure nel periodo estivo. Il concetto è quello della riscoperta di un paese che può ancora offrire migliaia di sorprese attraverso un viaggiare lentamente, che è un punto fondamentale. Cercare di delocalizzare la congestione di pochissimi luoghi in Italia che hanno problemi di eccesso di domanda, facendo scoprire tutto il resto, che è meraviglioso, straordinario e che spesso pecca soltanto di un po' di carenza di comunicazione, ma prima ancora di organizzazione del prodotto turistico. La bellezza strategica di potersi muovere in bicicletta è dare l'idea che tre regioni sono collegata attraverso un unico percorso che è fattibile, naturalmente a TAP, perché il percorso è molto lungo e che permette in bicicletta o nei bike, come uno preferisce, di attraversare posti magnifici, perché solitamente le ciclabili passano vicino al mare o nei posti turisticamente più interessanti. Quindi la valenza turistica è questa ed è da portare avanti il progetto proprio perché può attirare nelle nostre regioni nicchie di turisti sempre in crescita, anche perché grazie alle bike il numero di persone che possono compiere questi itinerari in bicicletta crescono notevolmente. Naturalmente poi il gioco che spetterà le regioni e le amministrazioni attraversate da questo percorso ciclabile è quello di mettere in evidenza il più possibile le bellezze dei territori. E a San Rossore si è conclusa la diciassettesima edizione di Bici Staffetta, la pedalata organizzata da FIAB. Quest'anno gli amanti del cicloturismo hanno percorso la ciclovia tirrenica partendo il 23 settembre da Ventimiglia per arrivare dopo una settimana a San Rossore percorrendo 450 chilometri. Noi promuoviamo il tema del cicloturismo come un modello anche economico diverso di fare turismo nei nostri territori. Siamo partiti da Ventimiglia, quindi il confine, quest'anno per promuovere un percorso che è la ciclovia tirrenica, oggi ovviamente ci fermiamo qui, la ciclovia tirrenica che è anche uno dei percorsi inseriti nella rete nazionale dal governo. Quindi è un momento importante di promozione del territorio, promozione di questa rete ma anche promozione di uno stile diverso di fare turismo attraverso l'uso della bicicletta, quindi molto meno impattante sui territori e anche molto più divertente. Quindi è un, diciamo, questo tipo di turismo sostenibile, è un turismo da promuovere, perché? Beh, la promuovere perché comunque, intanto abbassa un patto ambientale, quindi chi si muove in bicicletta non inquina e porta anche allegria. La ciclo pista tirrenica si andrà quindi ad inserire all'interno del progetto Intense e come ha spiegato nel suo intervento l'assessore regionale Ceccarelli, dal 2014 al 2017 sono stati fatti passi avanti ed oggi la ciclo pista tirrenica non è solo un'idea, ma è già in avanzata realizzazione. Noi abbiamo iniziato a parlare di questa tirrenica a fine 2014, da lì progettazione per l'individuazione del tracciato, protocolli di intesa, riconoscimento da parte del Ministero, beh, possiamo dire che insomma la cosa veramente è in movimento e sta promettendo davvero bene. Ad oggi però le cose sono molto cambiate anche perché la ciclo pista tirrenica si va ad inserire nel progetto Intense. Poi potrà essere inserito, come dimostra il progetto presentato oggi, il progetto Intense anche in un contesto internazionale con le regioni francesi che partecipano al progetto. Quindi, insomma, è un'occasione immensa per il territorio per promuovere un tipo di turismo assolutamente sostenibile, destagionalizzato, è un'occasione per fare un indotto economico importante e anche promuovere stili di vita sostenibili dal punto di vista ambientale. Un progetto, quello di Intense, che ha lo scopo di creare un itinerario turistico ciclabile costiero dell'area trasfrontaliera ed itinerari escursionistici che valorizzino e mettono in rete il patrimonio naturale e culturale, aumentandone l'accessibilità. Il programma ha 5 milioni e 100 di disponibilità. Stiamo lavorando in tutte le regioni per dargli pienamente attuazione. L'evento era un evento che permetteva, come dire, di valorizzare lo stato dell'arte e ora siamo nella fase di attuazione. Fra l'altro voglio ribadire e sottolineare che siamo di fronte a uno dei 70 progetti che sta dentro il programma Italia-Francia Marittimo che ha a disposizione 200 milioni di euro e che ha già visto assegnate circa il 70% di queste risorse. Noi come Regione Toscana, io per conto del Presidente, sto seguendo il fatto che questi progetti siano in grado di realizzare pienamente gli obiettivi che sono proposti e soprattutto in questa fase di passare alla realizzazione concreta. Ecco, il progetto Intense è uno di quelli più avanti nella realizzazione e nella spesa. Quindi noi mostreremo che riesca a raggiungere tutti gli obiettivi e quindi la creazione davvero di questa ciclovia integrata fra le 5 regioni. Grazie a tutti.